salve a tutti oggi parliamo di ipnosi e di concetti quantistici prima di tutto che cosa si intende per concetti quantistici cosa hanno osservato i fisici i fisici hanno osservato che noi pensiamo di vedere toccare osservare le cose in una certa maniera ma nella realtà le cose non sono così se si analizza si vede che la realtà è fatta in maniera differente da come i nostri organi di senso la percepiscono noi percepiamo abitualmente una realtà lineare dove una cosa succede all'altra in continuità e ad un certo punto abbiamo una percezione del tempo in una tridimensionalità accompagnata inoltre dalla dimensione tempo i fisici ci dicono c'è una dimensione più ampia quello che tu vedi è un ordine di realtà che possiamo chiamare ordine esplicato ma non è la realtà più profonda esiste un ordine più profondo che si può chiamare ordine implicato che noi non vediamo ma che possiamo capire che c'è da una serie di elementi ad esempio dal concetto di entanglement due particelle si toccano e poi ad un certo punto presentano gli stessi stati anche ad una certa distanza come se ci fosse un'altra dimensione un altro qualcosa che noi non percepiamo come si applica questo a noi ora noi possiamo applicare lo stesso concetto nel come percepiamo la realtà noi pensiamo di percepire la realtà la realtà soggettiva con delle emozioni dei pensieri delle idee dei concetti ma in realtà quello che chiamiamo realtà è un pensiero e siamo noi col nostro pensiero che costruiamo ogni cosa che sta attorno a noi se vediamo una persona e diciamo questa persona c'è amico è una nostra costruzione mentale così come anche che questa persona c'è nemico stiamo costruendo con la mente ora a questo punto uno dice ma cosa differenzia questo concetto ad esempio da concetto la mappa non è il territorio concetto la mappa del territorio è il primo elemento ma diciamo così dobbiamo vedere che cosa intendiamo per territorio perché ad un certo punto possiamo scendere un livello ancora più profondo nel quale ad un certo punto tutto è collegato un livello di coscienza in cui ci rendiamo conto che siamo noi gli artefici di qualsiasi cosa proviamo sentiamo e ci succede e anche della nostra realtà apparentemente oggettiva che ci circonda l'ipnosi in realtà è lo strumento principe per accedere alla realtà quantistica perché attraverso l'ipnosi noi possiamo scendere all'interno di noi stessi e ad un certo punto ci distacchiamo un attimo dagli elementi esterni ed esistono degli stati di ipnosi cosiddetti stati di estasi che portano molto vicini al concetto quantistico tant'è vero che in tali stati le persone hanno come delle percezioni anche di cose distanti come se la mente andasse al di là del tempo e dello spazio come possiamo applicare questo nella nostra realtà quotidiana anche oggi e incominciamo a renderci conto dei livelli di coscienza il primo livello di coscienza del quale ci possiamo rendere conto e che noi siamo il background cioè lo sfondo di qualsiasi cosa noi sentiamo quindi se abbiamo un'emozione che magari ci concentra la nostra attenzione cerchiamo di prendere coscienza del nostro corpo di allargare lo sguardo e ci rendiamo conto che questa emozione è solo un'increspatura in tutto questo è già un primo passaggio nell'allargare la coscienza ovviamente questo esercizio se fatto così momentaneamente ha un risultato nel tempo limitato dovrebbe essere ripetuto o accompagnato dalle tecniche di autoipnosi vi consiglio di ascoltare sempre su questo canale il nastro di rilassamento che vi porta a percepire tutto il corpo in un certo qual senso anche a distaccarvi dal vostro voi stessi abituale nel quale voi siete normalmente praticando queste tecniche incomincerete ad avere una percezione più alta di voi stessi e del mondo attorno grazie per questo interesse ci vediamo al prossimo video e non dimenticate di sottoscrivervi a questo canale con un canale nuovo che vuole portarvi dei temi molto nuovi e potenti grazie